Il MultiEA 4000 è un analizzatore elementare versatile per l'analisi del cloro in matrici organiche. La combustione ad elevata temperatura e senza utilizzo di catalizzatori consente una determinazione efficace e completa delle matrici organiche solide e viscose. L'elettrodo combinato analitichiena offre un range analitico molto ampio e versatile per molte applicazioni. Le navicelle utilizzate per introdurre il campione in combustione sono in quarzo e completamente riutilizzabili dopo il passaggio in fornace. Queste navicelle sono progettate appositamente per lavorare con l'autocampionatore FPG. Il volume elevato a disposizione è molto utile quando si analizzano campioni a basso peso specifico. Immagina ad esempio di dover determinare un basso contenuto di cloro in scaglie di segatura o pezzi di tessuto morbido. Ecco queste sono applicazioni molto semplici da eseguire con MultiEA 4000. È possibile analizzare tutti i solidi organici dalla polvere al pellet. Applicabili anche i campioni pastosi come grasso e catrame ed infine liquidi con punto di ebollizione maggiore di 400 gradi come gasoli da riscaldamento. La combustione dei liquidi con basso punto di ebollizione non è adatta a questa configurazione in quanto si avrebbe la formazione di incombusti. Per queste ultime matrici esiste un'altra soluzione strumentale analitichiena più adatta. Il sistema permette di collegare una bilancia analitica per l'inserimento delle pesate dei campioni automaticamente nel software. Dopo aver avviato la sequenza il processo analitico è completamente automatizzato. L'autocampionatore FPG alloggia fino a 48 navicelle contemporaneamente ed è posto alla destra del modulo di combustione. Le navicelle in quarzo collocate nell'autocampionatore vengono sequenzialmente posizionate sul braccio ceramico di introduzione nel modulo di combustione. L'introduzione del campione avviene dopo aver eseguito l'auto zero del segnale della cella. Il tubo di combustione è sempre aperto, non esistono parti meccaniche di tenuta a gas soggette a manutenzione. Ciò consente inoltre di programmare la velocità di introduzione della navicella in funzione della matrice. Il software MultiWin permette di variare la velocità di introduzione in base alle matrici specifiche, potendo anche utilizzare un database interno precaricato. Dopo la combustione e l'essiccazione nell'acido solforico i gas giungono nella cella di titolazione microculometrica. La cella è raffreddata con peltie integrato per eliminare derive di segnale. Si applica la determinazione amperometrica degli alogenuri presenti ovvero cloro, bromo e iodio. Dentro la cella amperometrica è presente un elettrodo combinato in un unico corpo ceramico. L'anodo di argento è posizionato sul fondo della cella. Grazie all'agitatore presente nella cella si evita la precipitazione degli alogenuri assorbiti ed una titolazione efficiente. L'elettrodo può essere conservato a secco ed è molto specifico nella titolazione di alogenuri, anche in presenza di interferenze. L'elettrolita utilizzato nella cella contiene solo il 20% di acido acetico, evitando in questo modo vapore acidi dispersi in laboratorio. La manutenzione della cella amperometrica è molto semplice da eseguire ed il suo grande vantaggio è l'ampio range di lavoro. In combinazione con la funzione split, il limite superiore di determinazione è circa il 10% di cloro espresso in massa, mentre il limite di rilevabilità, LOD, è un ppm, sempre rispetto alla massa specifica pesata. L'intervallo in valore assoluto della cella varia da 10 microgrammi a 1 mg di cloro. Ne consegue che Multi A4000 è ideale per analizzare matrici con elevate concentrazioni di alogeni, quali materiali riciclati e combustibili secondari da rifiuti, oppure per concentrazioni medie di alogeni contenuti in materiali vegetali, carta e carbone. Grazie all'utilizzo della tecnica amperometrica non è necessario eseguire rette di calibrazione. Il valore di corrente misurato nella cella è direttamente proporzionale al cloro contenuto nel campione. Il software MultiWin permette di valutare i dati in modo semplice ed intuitivo. Al termine della sequenza i risultati sono riportati in una schermata riepilogativa. La maggior parte delle funzioni sono disponibili con un clic dalla barra degli strumenti. Sono disponibili diverse funzioni di esportazione come CSV, Excel e LIMS Pile e inoltre è possibile automatizzare la stampa PDF e l'esportazione dei dati in cartelle di rete. Il software è impostabile in maniera personalizzata per rendere il flusso analitico più snello e semplice. Speriamo che in futuro anche il tuo laboratorio potrà usufruire dei numerosi vantaggi dell'analizzatore elementare MultiEA 4000.